Tutti i 15 comuni dell'Alta Umbria hanno presentato progetti per migliorare la propria struttura urbana o l'aspetto paesaggistico o ideare percorsi turistici. Un plafonda di oltre 2 milioni di euro è stato messo a disposizione complessivamente e ora entro il 28 febbraio prossimo dovranno presentare il piano esecutivo per accedere ai finanziamenti comunitari. È uno dei risultati più significativi esposti in conferenza stampa dalla presidente del Gala Alta Umbria Giuliana Falaschi che ha tracciato il bilancio dell'attività dell'organismo pubblico privato chiamato a gestire fondi europei sulla base di progetti prodotti dal territorio. Accanto a lei il direttore del Gala Alta Umbria Matteo Montanari che ha evidenziato come il raggiungimento pieno del risultato di finanziare i 15 progetti comunali farebbe scattare una premialità che porterebbe a disposizione dell'Alta Umbria altri 1,5 milioni da destinare a progettualità future. Tra i piani destinati a finanziamento spiccano la riqualificazione della palestra di San Pietro a Gupio e il percorso turistico di collegamento tra teatro Talia e Taverne delle Porte a Gualdotadino coinvolti anche i comuni della fascia con l'ex convento e museo del parco a Costacciaro con il teatro rifossato di Vicola, viabilità di spazi pubblici a schegge, siti di valenza storico-culturale a sigillo. Ma non sono mancate anche campagne promozionali per ben 30 manifestazioni in tutto il territorio cui sono stati destinati 170 mila euro e sinergie con Asso Gal, il circuito dei Gal Umbri. Noi abbiamo fatto uscire il bando per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico al quale hanno partecipato tutti i comuni con un importo importante di circa 2 milioni e oltre 100 mila euro. Sono stati tutti finanziati, ora dovranno presentare poi la domanda, cioè il progetto esecutivo dei vari interventi entro la fine di febbraio del 2018 per poi speriamo concludere anche i lavori entro novembre 2018 e questo è un obiettivo per noi importante perché ci consentirà poi anche di accedere ad una premialità successiva. Detto questo bisogna anche considerare il risultato di questo bando che è anche un bando di qualità. Hanno presentato dei progetti interessanti tutti i comuni e questo per noi è anche motivo di soddisfazione perché significa investire per migliorare anche il nostro territorio, i borghi, i centri storici e anche comunque gli aspetti più naturalistici, più paesaggistici ambientali del territorio dell'Alta Umbria. Secondariamente ci siamo concentrati sul sostegno dell'attività promozionale di varie iniziative, manifestazioni, eventi che si sono svolti in modo omogeneo su tutta l'Alta Umbria, circa 40 manifestazioni e da questo punto di vista possiamo vantare anche il risultato di essere l'unico Gall ad averlo fatto. Abbiamo anche fatto alcune attività insieme agli altri Gall attraverso l'Asso Gall che intanto si è costituito questo durante il 2017 e abbiamo partecipato insieme a loro a Vinitali, a Verona, poi abbiamo partecipato al Salone del Turismo Rurale di Bastia e ultimamente proprio con la conclusione di domenica scorza Artigiani in Fiera Milano. Riteniamo di dover ora valutare anche risultati attraverso un questionario che poi viene somministrato a tutti i partecipanti in modo da capire anche se appunto il nostro intervento è stato utile, è servito e se ha avuto riscontro positivo o diversamente appunto cercare di modificare il nostro tipo di intervento per il prossimo anno. Il direttore Montanari si è poi soffermato sui nuovi bandi previsti per il 2018 che saranno illustrati nelle prossime settimane. Sono stati elaborati sulla scorta di quanto emerso dagli incontri con operatori di vari settori agricolo, artigianato e turismo che saranno i tre segmenti su cui si indirezzeranno i bandi stessi sia per progetti immateriali di promozione sia per interventi infrastrutturali.